Stava mostrando ai parenti quella pistola che aveva comprato illegalmente in provincia di Varese per festeggiare in provincia di Napoli il capodanno, quando è partito in maniera accidentale il proiettile che ha ucciso sua zia, Concetta Russo, 55 anni, e lei la prima vittima del 2024 in Campania. Reo confesso, l'autore dell'omicidio, 47 anni, incensurato. Tutto è avvenuto durante i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno in un appartamento di Afragola, affittato dal 47enne per trascorrere le vacanze con i familiari che vivono fuori dai confini della Campania. C'erano anche dei minori in casa quando l'uomo ha tirato fuori l'arma, risultata rubata in Lombardia pochi giorni prima di Natale, e mentre la mostrava ai familiari qualcosa è andato storto. L'autore, indagato ora per omicidio colposo, porto abusivo d'armi e ricettazione, ha infatti raccontato ai carabinieri di averla scaricata prima del suo utilizzo. Quest'arma era un'arma che si era procurato da poco tempo, che pensava di averla scaricata e in realtà mentre la mostrava ai parenti è partito un colpo accidentalmente. Dopo lo sparo che ha stroncato la vita della signora Russo, 55 anni, il nipote si è disfatto della pistola per poi aiutare gli inquirenti a ritrovarla. Ad avvertire il 118 stesso i familiari della vittima, ma al loro arrivo era già troppo tardi. A fornire ulteriori dettagli il Maggiore Andrea Corazza, comandante del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna. Sì, ci ha dato delle indicazioni su dove si sarebbe procurata questa pistola, ma stiamo facendo ulteriori approfondimenti. La pistola ve l'ha fatta trovare lui? La pistola ci ha dato indicazioni e ce l'ha fatta trovare, sì, l'abbiamo trovata.